Come presidente è estremamente impegnativo, sia sotto l'aspetto del tempo da dedicare alla società, ma poi magari si viene ripagati da quelle che sono le soddisfazioni che ti danno i giovani. È una festa perché qualunque partita è il premio di una settimana di fatica in allenamento, quindi è una festa. Grazie.